è vero siccome loro si accontentano di poco purtroppo levano il lavoro anche a noi si e no è esatto anche qui giusto aiutarli ma prima però guarda al popolo italiano perfetto siamo d'accordo siamo cognati credo che rubano quelli che li gestiscono e li gestiscono male vabbè gli italiani certi lavori non li fanno più però c'è dato pure questo penso che ce ne stiano troppi in italia dovrebbero andare un po da tre parti questi sono luoghi comuni è un problema di grande analfabetismo è veramente di poca coscienza di poca scienza è una domanda un po difficile perché non è che noi rubiamo lavoro io come migrante però ci sono lavori che gli italiani li fanno ci sono lavori che gli italiani non li fanno più forza per esempio loro fanno l'italiano posso prendere due melero e se ne posso farlo con mela ci sono lavori che purtroppo gli italiani non riescono a fare e che gli immigrati sanno fare e che gli immigrati sanno fare allora gli immigrati non rubano il lavoro gli immigrati come gli italiani se sono più capaci fanno un lavoro che l'italiano non riesce a fare infatti ho detto è troppo non vogliono fare però non riescono lui ha detto lui ha detto